Il centro murattiano si arricchisce di nuove attività commerciali pensate esclusivamente per la cura dell'uomo. È stato inaugurato a Bari un nuovo salone in pieno stile new yorkese The Barber Company che dà il benvenuto ai propri clienti con i tipici pali da barbiere americani bianchi, rossi e blu. Si festeggia la nuova apertura del Barber & Co a Bari. Barba, definizioni, rasature, ragazzo moderno, ragazzo che vuole le virgole. La modernità, accettare praticamente quello che è il momento, quello che il ragazzo vuole, soprattutto in un ragazzo giovane che spesso e volentieri ha più no che sì e quindi renderlo un po' più moderno, un po' più felice.